Ragazzi, se sentite che la qualità è leggermente inferiore è perché stavolta sto utilizzando il mio iPhone anziché il mio iPod e magari c'è qualche parametro leggermente diverso. Salve a tutti ragazzi, sono Michele e oggi vi farò vedere come effettuare l'effetto colone. L'occorrente è una videocamera, un cavalletto, una persona e un set di luci o una stanza ben illuminata. Per prima cosa dobbiamo impostare il set, in questo caso le presispongo in una cucina come se fossimo ad una cena. Impostiamo le luci, i microfoni e la videocamera oppure anche più videocamere. Registriamo le varie parti e in seguito con dei programmi di editing sistemiamo le clip come vedete da poco. Ragazzi, ecco che siamo sul computer, ora dobbiamo andare dentro il programma di editing, in questo caso io utilizzo Itfile 4 Express e dobbiamo fare il nuovo Make Composite Shot, perché ho già provato a fare con l'editing normale e non si può, vedete che stavo provando. Quindi bisogna andare dentro il Composite Shot e mettere dentro i nostri pali che è già detto. Siamo che qua, ho già provveduto a tagliare la parte 1, bisogna inserire la parte 2, quindi mettendola sotto, qua. Ok, tagliamo tutta la parte di cesso e vediamo che... Ok, attiviamo anche la seconda lista e con questo strumento penno andiamo a delimitare la nostra area. In questo caso vi faccio così, mi raccomando fate un po' di zoom per vedere al meglio quello che state effettivamente tagliando. Allora ragazzi, eccoci qui, il procedimento più o meno è finito, perché bisogna tagliare le parti e poi il video da posto. Il gioco è fatto! Ora posso mostrarvi il risultato finale. Ciao Michele! Ciao Razio, da quanto tempo non ci vediamo? Ci voleva proprio una bella cena assieme, no? No, non ci vediamo. Se noi creiamo un canale di YouTube, potremmo raccontare quello che di giorno in giorno facciamo. Potremmo chiamarlo... Sì, ma per capire come diventano in mente certe idee. È fantastico! Bene ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Commentate qua sotto se qualcosa non vi è stato chiaro. O volete avere maggiori informazioni e condividete il video per aiutarmi a crescere. Ma la cosa più importante di tutte, iscrivetevi al canale. Ciao!